Prosegue spedita la preparazione dell'Aurora Alto Casertano sul terreno di Pietramelara, gli ordini di Mister De Rosa. Allenamento leggero in attesa del primo incontro ufficiale della stagione in Coppa Italia a Vasto Girardi. Incontro in programma domenica 12 ottobre, arbitro Gilbero Gregoris di Pescara. Il nostro Emidio Bianchi ha sentito per noi il direttore sportivo Alessandro Sandangelo. L'esordio domenica a Vasto Girardi, che partita sarà per questa nuova Aurora Alto Casertano? Sicuramente sarà un'emozione per tutti, partendo dal presidente, partendo da tutto lo staff dirigenziale e da tutti i ragazzi. È la prima volta che affrontiamo un incontro ufficiale per quanto riguarda il campionato di Serie D. Noi ci stiamo preparando al meglio e sarà una bella esperienza già da domenica in cominciare a affrontare squadre di calibro del nostro campionato come il Vasto Girardi. Tu hai costruito una squadra di giovani perché sei l'artefice di questa società per quanto riguarda gli acquisti e l'inserimento di questi nuovi calciatori. Come li vedi questi nuovi innesti? Sì, diciamo che sono l'artefice perché questo è il mio compito. Fortunatamente ho un presidente che mi lascia lavorare nel miglior modo possibile. Ovviamente noi ci siamo confrontati quest'estate, abbiamo deciso di puntare tanto sui giovani per una programmazione che ci vedrà all'inizio. Credo peccare su qualcosa perché purtroppo sappiamo tutti che i giovani devono migliorare partita dopo partita ma che poi nel lungo periodo, se lavoriamo bene, verrà premiata. Sì, per quanto riguarda domenica abbiamo poche defezioni, fortunatamente ci siamo quasi tutti e siamo pronti ad affrontare questo impegno più motivati che mai. Da Pietra Melare è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it